Io sono Maurizio, oggi farò vedere come vanno giù in Dora Chiaki Dove stiamo andando? A meccandare a prendere Dora Chiaki Dove stiamo andando? A meccandare a prendere Dora Chiaki Dove stiamo andando? Dora Chiaki, quello che mi è capitato è che tu hai ammiglato le fagioli Qua c'è scritto anche il nome tuo Mi d'oro Eccolo qua il nome tuo, lo sai leggere? E' un cocktail, sa che è latte, un mashu e un matcha Com'è il tuo? Il tuo è buono? Sì È cioccolato? Sì, è cioccolato E' cioccolato E' cioccolato E' cioccolato